Ciao a tutti e benvenuti a Drinkerland! Io sono Drinky, il vostro barman virtuale. Siete pronti a scoprire la ricetta di questo cocktail? Però, prima, un breve accenno a storia, curiosità e abbinamenti. Le origini del B-52 non sono del tutto chiare. Quello che è certo è che il suo nome è un omaggio al famoso aereo di bombardamento americano che sganciò durante la guerra del Vietnam bombe incendiarie al Napalm. In effetti, il B-52 può essere definito un cocktail infiammato o esplosivo per il mix dei suoi ingredienti e per l'effetto che si può creare incendiando il Grand Marnier come guarnizione. In Italia viene servito in coppette da cocktail, mentre negli Stati Uniti e nel resto d'Europa si utilizza il classico bicchierino da shop. Il B-52 resta comunque uno dei cocktail più famosi e apprezzati che ha ispirato e influenzato tutta la cultura pop del Novecento. Si può abbinare il B-52 a dolce al cioccolato, al caffè, alla zuppa inglese oppure semplicemente a della frutta fresca. Gli ingredienti per preparare il B-52 sono 20 ml di Kalua 20 ml di Bayliss 20 ml di Grand Marnier Per realizzare il B-52 dovrete Per prima cosa versare il Kalua, poi prendere il Bayliss e versarlo pian piano facendolo scivolare sul dorso del cucchiaino. Infine versare allo stesso modo anche il Grand Marnier. Il vostro cocktail è pronto, mi raccomando bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti